La minaccia corre sul web. Continuano gli assalti degli hackers alle banche dati di ignari utenti, ditte professionisti o semplici cittadini che inconsapevolmente aprono allegati di mail apparentemente inviate da persone conosciute ma che in realtà cadono in veri e propri ricatti. Aprendo l'allegato infatti parte un virus che blocca irrimediabilmente il computer. La tecnica è quella del cavallo di ritorno come avviene per altri oggetti rubati. Se rivuoi il mal tolto paga. In questo caso pagando una certa somma ti sbloccano il database del tuo pc. E' accaduto anche uno studio professionale di Fano. Abbiamo trovato che ci hanno rapito tutti i dati e quindi un bel teschio dove diceva che era un virus che aveva colpito tutto e tutti i nostri file erano diventati musicali. E quindi abbiamo perso in un attimo l'archivio e abbiamo dovuto fermare le macchine e cercare di risolvere questa cosa che ci ha provocato il danno di fermare completamente il lavoro. E' arrivato tramite una semplice mail questo? Purtroppo sì, arriva con una fatturazione che tu già conosci da un indirizzo che già conosci e quindi nell'automatismo del lavoro del mattino della lettura della mail tu vai e apri e automaticamente compare il teschio con queste belle scritte in rosso dove ti spiegano che il tuo computer a quel momento ce l'hanno loro. E' un rapimento in piena regola. E quindi da quel momento in poi panico totale? Da quel momento in poi si prende il telefono, si chiama il tecnico di fiducia e ovviamente si mette il panico al mondo perché per noi in quel momento finisce il lavoro, finisce la risposta ai clienti, finisce il lavoro con il tribunale, finisce qualsiasi comunicazione. L'impatto su un'attività economica ma anche su un privato è quindi devastante perché praticamente sei impotente ma alle spalle di tutto questo c'è un vero e proprio raggiro, una truffa, un ricatto perché per riavere i propri dati e adesso capiamo in che forma vengono bloccati, ti chiedono dei soldi. Allora che cosa succede in pratica al computer quando si leggono questi messaggi? Allora quello che succede al computer è molto semplice, i dati vengono criptati tramite un programma che si chiama CryptoLocker o ci sono anche delle varianti con altri nomi e vengono cifrati a 256 bit che diciamo in gergo tecnico che è una cifratura ad altissimo livello, quindi questo rende il computer completamente inutilizzabile, tutti i dati sono inaccessibili per l'utente. E ti chiedono dei soldi anche in base all'importanza dei tuoi dati? Certamente, loro possono verificare quando criptano i dati, se il computer era un computer di un privato, se il computer era un computer di un'azienda, se era un portatile, se era un fisso, se era un server e in base a questo stabiliscono una certa cifra che poi uno deve decidere se pagare o meno. Allora, al di là di decidere se pagare o meno, quali sono le contromisure da adottare in questi casi e diciamo anche cosa fare nel caso uno si trovi questo messaggio quando apre il computer? Allora, la prima cosa da fare quando si trova il messaggio è bloccare tutto completamente, fermarsi, chiudere il computer, non collegare pennette con backup, non collegare hard disk, nulla. Questo per i privati ovviamente. Per l'azienda è stessa cosa, importantissimo se capito in un'azienda, prima cosa staccare il cavo di rete che collega alla rete dell'azienda, perché la cifratura dei dati avviene in maniera temporale, cioè il virus comincia a criptare i dati, dopodiché quando ha finito di criptare i dati del computer passa alla rete aziendale dove può accedere e quindi cripterà anche tutti i dati della rete aziendale. Risalire ai mandanti è quanto mai difficile? Avete capito più o meno la zona di provenienza? Ma risalire ai mandanti non è difficile e che non ci si può fare nulla. Adesso l'avvocato Catenacci magari dal punto di vista legale ne sa più di noi sicuramente, però noi abbiamo rintracciato società dell'est europeo, ucraine, russe, di questi paesi qua generalmente. Anche perché poi il diritto internazionale è un po' difficile da applicare su questi paesi. Fare un'arrogatoria per un computer criptato credo che sia piuttosto difficile. Il dubbio rimane, pagare o non pagare? Allora, pagare o non pagare è una cosa molto personale. Ovviamente si paga tutto in maniera elettronica, quindi tramite bitcoin. Per la nostra esperienza, quando si è pagato, i dati sono stati poi decifrati. È sempre bene che lo facciate tramite un centro specializzato, perché poi comunque anche la procedura di decriptazione va fatta in un certo modo. Grazie. Grazie. Grazie.